Sì Mario buon pomeriggio a voi siamo all'esterno dello stadio San Nicola di Bari è terminata da pochi minuti la conferenza stampa pre partita di mister Michele Mignani in vista di Bari Catanzaro sicuramente la partita di cartello del turno numero 12 del girone C di serie C di fronte prima e seconda della classe 24 punti per il Bari 20 per il Catanzaro entrambe però arrivano da delle sconfitte il Bari ha ceduto per 3 a 0 in trasferta nel derby contro la Virtus Francavilla e il Catanzaro è stato superato invece al Ceravolo per 2 a 1 dal Monopoli Francavilla e alle spalle questa la risposta di Michele Mignani in conferenza Le sconfitte fanno sempre male e non devi mai dico mai avere abitudine alla sconfitta sappiamo che non è stata una delle nostre migliori prestazioni abbiamo cercato di capirne i motivi abbiamo lavorato una settimana in funzione di prepararci bene a questa gara che è altrettanto importante io ho semplicemente cercato di ricordare ai ragazzi il percorso abbiamo fatto che è un percorso fatto di difficoltà ma anche di sacrifici di spirito di squadra e spirito di gruppo e anche di soddisfazioni quindi non è una partita andata male che deve abbassare l'autostima o abbassare le certezze sappiamo che la Pagnotta si conquista di settimana in settimana e domani c'è un'altra possibilità di conquistarci la Pagnotta Mignani che ha predicato calma e ha detto comunque la risposta va data sul campo grande ansia da parte dell'allenatore di giocarla questa partita non si è soffermato tanto sui singoli ma lo sappiamo non ama farlo di certo c'è che Scavone torna a disposizione perché si è allenato praticamente quasi sempre con il gruppo nel corso della settimana e chissà che non possa partire titolare difficile che questo avvenga invece per Di Gennaro è a disposizione lo stiamo però mettendo in condizione di fare minutaggio la risposta di Mignani resta il dubbio in attacco dove Simeri Chedira e Antenucci si giocano due posti Marras infatti non recupera rispetto alla partita contro il Francavilla e in difesa ci saranno novità perché va fuori di Cesare lo sappiamo lungo stop in vista per il capitano tornerà Gigliotti al centro Ballottaggi, Puccino, Belli e Ricci, Mazzotta in fascia per contenere l'attacco del Catanzaro in cui ci sarà anche l'ex Pietro Cianci che ha parlato alla vigilia ha detto al quotidiano del sud se dovessi far gol non esulterò lo ricordiamo si gioca domani alle 14 cornice oraria insolita per un big match del turno numero 12 del girone C di Serie C a voi la linea